Una cosa sul circo romano è anche questo secondo o terzo secolo, era il posto dove il re cacciava i soldi, il re e l'imperatore, l'imperatore aveva un passaggio dove adesso vedremo il palazzo imperiale andava direttamente nel circo, c'erano i giochi con le bighe, fino al sesto secolo sono stati fatti i giochi qua perché a differenza dell'anfiteatro non erano pruenti. Nel sesto secolo il figlio della regina Teodolinda è stato ancora incoronato, nonostante con i Longobardi avessero spostato la capitale a Monza, comunque l'hanno incoronato qui, quindi c'era ancora un po'. Questo è stato distrutto il circo o dal Barbarossa o dai milanesi per paura che se ne possessasse durante l'assalto del Barbarossa. Sostanzialmente la cosa importante da dire è che i circhi rigenerano nel nord Italia due, uno qua e uno ad Aquileia. Questo fa capire che il fatto che fosse il circo perché ricalca un po' il tracciato del circo, come dicevo prima, le vie milanesi spesso hanno un significato nascosto, come la via Arena che, guarda caso, è vicino all'anfiteatro. C'erano un paio di chiese che avevano il circo nel proprio nome, che guarda caso, sono cadute nell'Ottocento, nei primi del Novecento sono crollate, quindi non ci sono più. La data di distruzione del circo da parte del Barbarossa non è il 1173 ma è il 1162, da parte del Barbarossa o dei milanesi, perché c'è anche chi dice, qui credo che sono stati i milanesi che l'hanno distrutto per evitare che lui se ne impossessasse.